Uno dei grandi trend che sta emergendo nel retail è quello dell'usato, usato nel vero senso della parola. Guardate come è espresso nel flagship di Decathlon a Berlino a fianco ad Alexanderplatz. C'è ovviamente un carosello di immagini per spiegare il contenuto di che cosa vuol dire usato e il posizionamento che prende Decathlon per raccontarlo e poi nei vari reparti ci sono appunto i prodotti usati in vendita. Usato in questo caso vuol dire anche garantito da un grande brand che si chiama Decathlon. È da osservare con veramente molta cura un po' in tutte le categorie merceologiche questo trend perché emergerà sempre più con potenza.